buongiorno a tutti oggi preparo gluten free biscotti alla giapponese con anko e malon grasset gli ingredienti principali sono farina di riso e anko l'anko è marmellata di azuki fagiori rossi come vi avevo presentato nel video passato potete trovare il link qui sotto ingredienti per i biscotti sono questi verso l'olio in un contenitore aggiungo la farina di mandorle e mescolo bene successivamente aggiungo la farina di riso e mescolo bene di nuovo aggiungo l'anko e lo scioppo di acero poi mescolo bene fino a ottenere un impasto omogeneo aggiungo i pezzi di marron grasset e noci ne lascio alcuni pezzi per guarnire i biscotti dopo mescolo bene l'impasto divido l'impasto in sei pezzi poi do la forma rotonda usando una mano e un cucchiaio poi appoggio ogni pezzo su una teglia mi piace mi piace mi cerco di fare più piatto usando un cucchiaio guarnisco i biscotti con i noci e il marron grasset quando ho finito di guarnire tutti i biscotti cuocio i biscotti in forno preriscardato a 160 gradi per 20-25 minuti ecco sono sfornati attenzione che sono morbidi quando sono caldi quando saranno raffreddati trovo che l'esterno è croccante e l'interno è morbido questo è l'effetto di sciroppo di acero la farina di mandorle la farina di riso e l'anco insieme hanno creato una nuova consistenza questi biscotti sono ottimi per la colazione o gli spuntini grazie per aver seguito la mia videoricetta ci vediamo presto grazie a tutti